ciao a tutti ragazzi ecco perché un pesce rosso non va tenuto in acquario e voi direte perché lo stai tenendo in acquario questo qui è un acquario che tengo qua in maturazione è una masca sempre ferma questi pesci una volta erano quattro pesci vivevano appunto in questo acquario dopo di che ho deciso di fare un laghetto e di trasportarli nel laghetto ecco vedete distanza di due mesi c'è il pesce è triplicato di grandezza e come vedete dentro qui fa come un pazzo perché non sa dove muoversi e deve andare non sa come muoversi come andare in giro quindi i pesci rossi non tenete in acquario o perlomeno non tenete in un acquario piccolo e questo acquario di 60 litri ci vorrebbe 60 ma almeno mi sembra 100 litri a pesce addirittura 80 100 litri a pesce infatti questo qui che è circa 15 centimetri non riesce a stare neanche cinque secondi questo acquario stamattina l'ho guadinato dal laghetto l'ho portato qui per vedere come stanno in salute ma una decina di minuti mezz'ora al massimo lo riporterò nel suo ambiente naturale non maltrattiamo i pesci ragazzi mai